La versione noir, la versione Spider-Man of the Future La versione classica C'era anche una quarta versione Che onestamente non mi ricordo No aspetta Ultimate Ok in questo momento Però l'unica cosa che mi viene in mente Riguardo al titolo Ok mi hai proposto Quattro versioni di Spider-Man In un gioco solo Mi hai proposto una cosa Un filo più matura Dei precedenti Però parliamoci chiaro Uno si aspettava Qualche situazione stealth In più si aspettava Qualche situazione in cui si potesse Mettere in gioco La personalità di Spider-Man E invece ci siamo ritrovati Ad avere in mano un gioco Che come tutti i fottutissimi Tain del cazzo che hanno prodotto L'Activision Era un va avanti e picchia A me sta cosa Mi ha fatto girare altamente il culo Perdonatemi ma A me Il sequel sarà Con due Spider-Man solamente Ma a me sta bene Che sia anche con un solo Spider-Man Che sia fatto bene Ma porca puttana Ma fammelo bene Introducimi qualcosa di nuovo Non far si che Come prototype Io abbia sempre Lo stesso cazzo Di compito Di pigiare Due fottutissimi tasti E dire Ok ho finito la quest Ho finito il livello Faccio quello dopo Ho controllato la zona Ho pulito Ho ammazzato il boss Cazzo Non voglio pigiare due tasti Io voglio avere un gioco Che mi possa sorprendere A livello della trama Voglio avere un gioco Che mi segua Vogliamo metterla proprio Semplicissima Che mi segua il fumetto Eh ma non devi scegliere Activision Ho capito Dopo lo sfogo Mi do Cioè mi do Do completamente ragione A Kotick Forse è l'unica volta Che gli do ragione In cui 4-5 mesi fa Ha detto Tutti i nostri titoli Dedicati a Spider-Man Facevano cagare Sì C'è ragione Tuoi titoli Facevano cagare Ma proprio a spruzzo Vabbè dopo lo sfogo Di durato due minuti e mezzo Stavamo parlando Della nuova generazione Evoluta da Activision Sì infatti Della nuova generazione Siamo arrivati a Spider-Man Cosa ne pensate voi Della nuova generazione? Inutile Infatti Non c'è C'è ancora tempo Poi devo comprare ancora Il PlayStation 3 Aspettate Per PS3 Che per PS3 Ci sono almeno Altre due anni utili Poi PS3 ha investito su Kinect E almeno un altro anno e mezzo Ce lo tira Proprio Ci prende i coglioni C'è il tarrascina Per un anno e mezzo Mentre PS3 C'è ancora delle potenzialità Che non ha svelato Guardiamo anche solamente I trailer Visti per Uncharted 3 L'anno scorso C'erano software house Che dicevano Rockstar Ah noi con GTA 4 Abbiamo spremuto L'inverosimile Tutte le console E invece In effetti GTA 4 Anche se la console Era talmente pesante Che con quattro macchine Della polizia Vicino Mi laggava Mi scattava Però io ci faccio una domanda Se Rockstar Dice Io ho spremuto Da far schifo La 360 E la PS3 Più di così Non è possibile fare Non esiste Gioco superiore Uncharted 3 Come lo definisci? Will E le inquare Come lo definisci? Ed è sempre sviluppato Distribuito Da Rockstar Poi come dice A questo punto Scusate un attimo La stessa cosa Perché Precisiamolo Precisiamolo L'industria videoludica È l'unica Che si autoelogia È l'unica Che parla di se stessa Come il miglior prodotto Che si possa desiderare Vorrei ricordare Che lo stesso discorso Facevano con i titoli PS2 Con i titoli Xbox Con i titoli PS1 Ogni volta che usciva Il titolo nuovo Ah più di così Non si può fare Questo è il meglio Che potete avere Serve qualcosa di nuovo Non si potrà mai fare Niente di meglio Signori Il titolo Playstation 2 Che è stato Il canto del cigno Della console Sony È stato God of War 2 Che si credeva Addirittura Dovesse uscire Per Playstation 3 Comunque Mi chiede qua C'è Michele Che chiede Che ricorda Il Frostbite Di Dice Il Frostbite Di Dice È un esempio Lampante Eh sì 30 fps 30 frame Al secondo Sono più Che sufficienti Per una console Nel momento in cui Un Uno sviluppatore Stabile Come il Infatti Ci sto arrivando Uno sviluppatore Mi dice Io ti ho creato Questo gioco Con queste potenzialità Con questa grafica Con questa intelligenza artificiale E oltretutto mi dice Tu hai Su console 30 frame al secondo Garantiti Qualunque cosa succeda Io dico Ok Se ci sei riuscito adesso Tra un anno Che il Dev kit I kit che hanno Gli sviluppatori Per creare i giochi Per creare i giochi Sulle console Verranno ulteriormente Migliorati Perché ricordiamoci che I dev kit È una cosa che non viene Pubblicizzata Vengono distribuiti Nuovamente Con le nuove librerie E dati Ogni mese Possiamo riscontrare Un miglioramento Anche Solamente Sullo stesso GTA GTA 4 Quando Rocks Era detto Ok Noi siamo riusciti A migliorare GTA 4 A distanza Di pochi mesi Dall'uscita del titolo Quando è arrivata L'edizione Complete Edition Grazie alle nuove librerie Che ci sono state fornite Benissimo A distanza Di pochi mesi Hai migliorato Un titolo Che già Avevi messo Sul mercato Quindi Se Una software house Come Activision Come Dice O altre Incominciano a dire Serve una nuova generazione Di console Io dico No Non serve Semplicemente serve A loro Per far parlare Delle stesse software house Perché comunque La console Le potenzialità Le ha Le software house Non le hanno ancora sfruttate Le stesse case Che hanno sprodotto PS3 Sony 360 Microsoft E Vabbè Wii Ormai uscirà la Wii U Quindi Già da tempo Le software house Le hanno abbandonate La Wii Non farmi parlare di Nintendo Per favore Ok Teniamo per un prossimo discorso Io dico che Almeno Un anno e mezzo Barra 2 360 E PS3 Rimarranno sul mercato scored A O A A A